Nell'angolo più remoto dello spazio, una sinistra potenza si prepara all'invasione. Gli unici che possono salvare il nostro mondo dal disastro. Ehi, chi vi aspettavate, frate il coniglietto? Sono un coniglio, un'anatra, una bambola e un grosso campione. Non lui! Sorridi ora, eh! Questo campione! Che macchina fotografica usi? Mi dite che succede? Era ora che me lo chiedessi. Lo flettero sullo muscolo. Vedi certi alieni venuti dallo spazio, fuggiano i dolci in schiavitù. E per impedirlo non li abbiamo sfidati a palacalestra. Avete presente il Dream Team? Beh, noi siamo il malandritti. Quello che sto cercando di dirti è che abbiamo bisogno di te! Forse anche la mia esperienza può esservi d'aiuto. Preparatevi a correre! I Monsters hanno rubato il talento ai migliori giocatori dell'NBA! Preparatevi a saltare! Cinque giocatori dell'NBA accusano lo stesso misterioso disturbo. Preparatevi a schiacciare! E se dovessimo vincere noi? Avrete me. La Warner Brothers. Facciamogli vedere chi è di un altro pianeta. Vieni in vita! Pronti? Ad entrare in un mondo al di là della vostra immaginazione. Ma cosa? Che bel culetto! Michael Jordan. Max Bummi. E il meglio della NBA. Duffy! Sono qui! Adesso fai un'entrata o infine un tiro da tre! Adesso siamo in difesa! Eh, già! Ho, ho, ho! Io non mi spreco a difendere! Space Jam. Una commedia di Ivan Reitman di proporzioni epiche. A me piace giocare a quella canestra e non me la cavolo no! A marzo è in vendita in videocassetta ad un presso spaziale, ma per poco tempo. Il più potente è in vendita in videocassetta ad un luogo... A ragazzo è in vendita in per il luogo. Grazie.